Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Una gran quantità di toner abbandonata in via Brin è stata scoperta grazie alla segnalazione di un cittadino sulla pagina Facebook della Polizia Ambientale. Le indagini hanno permesso di risalire alla provenienza dello sversamento inquinante, ancora in corso l'accertamento delle responsabilità. Il toner è stato rimosso da una squadra di Asia. Nell'ambito delle attività di controllo del territorio è stata scoperta in via Nuova San Rocco un'officina meccanica completamente abusiva. L'intervento, svolto in collaborazione con l'unità Scampia della Polizia Locale, ha portato alla chiusura dell'officina. Con l'unità operativa Secondigliano gli agenti hanno invece multato 25 persone, per lo più non residenti a Napoli, che gettavano i rifiuti fuori orario. Furto di pigne in Viale Traiano, dove gli agenti hanno sorpreso in flagrante denunciato due persone che con una scala si erano arrampicate sui pini ad un'altezza di oltre 10 metri per compiere il saccheggio. Sequestrati 5 sacchi con oltre un quintale di pigne e gli attrezzi impiegati per il furto. Per essere un buon cittadino sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti tra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici e sanitari non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare il numero verde di assia 816 10 10, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.